Siracusa, stretta dei carabinieri, lavoro nero, 5 attività sospese, 6 imprenditori denunciati, sanzioni per oltre 70.000 euro. Carabinieri del Nucle Spettorato del Lavoro, unitamente ai militari del Comando Provinciale di Siracusa, su impulso e di intesa con la dirigente dell'Espettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa, hanno eseguito controlli per arginare il dilagante fenomeno del lavoro nero, della caprolato e delle violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 15 gli accessi ispettivi eseguiti in altrettante aziende tra i comuni di Priolo, Melilli, Augusta, Cassibile, Rosalini, Avola e Pacchino. Sono state esaminate 62 posizioni lavorative, di cui 22 sono risultati irregolari sotto il profilo contributivo e retributivo. I 15 lavoratori in nero sono individuati nel corso dei vari controlli, due sul totale di 7 occupati in un supermercato, uno sul totale di due manuali in un cantiere d'ile, 12 sul totale di 15 braccianti in tre diverse aziende agricole. Tra le 15 ispezionate per 5 aziende è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Si tratta di un supermercato, di un'impresa idile e di tre imprese agricole. Nei confronti di sei datori di lavoro è anche scattata la denuncia in stato di libertà per diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che riguardano la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, i ponteggi costruiti in modo non conforme alle norme e l'omesso coordinamento tra lavori eseguiti nello stesso cantiere da più imprese. In tutti i casi, anche inibendo parzialmente l'attività di cantiere, sono sempre state impartite precise disposizioni ai datori di lavoro e sono state ripristinate le condizioni di sicurezza imposte dalla legge. Le sanzioni amministrative erogate ammontano oltre 55 mila euro e le ammende contestate ammontano quasi 19 mila euro. I controlli dei carabinieri del nucleo spettolato del lavoro proseguiranno per garantire il rispetto dei contratti di lavoro, ma soprattutto per conseguire un più elevato livello di sicurezza per i lavoratori impegnati nei settori produttivi a più alta incidenza di infortunio come quelle del settore edile e del settore agricolo. Grazie.